Buonasera, benvenuti a Giochiamo d'Anticipo per un nuovo appuntamento insieme, rigorosamente in diretta, sono le 20.50, chiedo conferma, sono le 20.50, siamo in diretta? 20.50, 51 in questo momento. Ecco, anche sulla nostra app del Bello del Calcio, tra un po' Gennaro Arpaia la presenterà, però questa sera volevo fare una presentazione degli ospiti diversa. Scusa, puoi venire un attimo qui al canto? No, dai, ma dai. Ma per favore, ti chiedo, presenta tu i tuoi amici di questa sera? Se mi non è la ragazzi! Ma perché mi fate fare questa cosa? Ma a debita distanza, dobbiamo stare con metro di distanza, possiamo stare con metro di distanza, perché hai iniziato la trasmissione, prima ha detto, vabbè adesso Claudia, poi io mi siedo qui, proprio ti lascio. Ragazzi, è giusto, è una cosa difficilissima, è una cosa difficilissima, adesso vediamo se riesce. È una cosa difficilissima. E lo so che è difficile. Suggerisco io, alla tua sinistra. Alla mia sinistra, partiamo, ospite, Nando Orsi, buonasera, benvenuto, benvenuto, benvenuto. Passiamo a Massimo D'Alessandro, il mio uomo dell'estate, ti posso definire così? L'uomo dell'estate? Il mio uomo dell'estate. Mi piace, un complimento con te sempre per l'eleganza, anzi mai abbastanza, sei sempre l'eleganza. Ci sono stati dei collegamenti estivi tra di noi, molto simpatici. Sei in forma stasera? Molto. Attenzione che devi combattere contro questo uomo qua. Ciccio Marolda, eccola qua. Ciao Ciccio, buonasera. Buonasera a tutti, sei in forma? Sì, ma che significa uomo dell'estate? Parlavi qualche ritiro fa, insomma. No, parliamo di cose successe. Cose loro, insomma non entriamo nei particolari. Sempre per lo stesso canale, sempre per la stessa televisione. Siamo pronti? E invece Ciccio come lo vedi? Ciccio ha sempre parlato bene di me, quindi il mio giudizio è positivo. Sarebbe stato difficile parlare male. Benissimo. Prima di cominciare ci vuoi dire subito con chi te la prendi stasera? Ecco. Con nessuno, chi me la prendi da? Con nessuno. Con nessuno. Io me la prendo e penso che possiamo partire. Possiamo partire con il nostro giochiamo d'anticipo. Non mi cercare più, per mezz'oretta adesso io... Questo scherzo ti è piaciuto? Bellissimo. Allora resta qui perché noi dobbiamo parlare un attimo di tutti i nostri sponsor, però andiamo a salutare Fabiana. E quindi saggi con finanziamenti, buonasera Fabiana. Buonasera, buonasera a tutti. E poi Gennaro Arpaia, l'app del Bello del Calcio, sempre presente. Buonasera, sì, troverete anche Sebino Nella, anche lì che conduce sulla nostra app il Bello del Calcio Ufficio, potete scaricarla e trovarla sui vostri smartphone per vederci anche in diretta, tutta la diretta lì del programma, per rivederla anche domani, per interagire con noi e seguire quello che diremo questa sera, ma potete risponderci anche sulla nostra pagina Facebook Giochiamo d'Anticipo, dove vi abbiamo già chiesto se in vista della partita di domenica, perché ci piace giocarla subito, giochereste con il 4-2-3-1, con il 4-3-3, anche considerando l'assenza di Osimeno, uno dei tanti temi che estrapoleremo stasera. Hai capito che sondaggio, naturalmente inizieremo proprio con questo, però salutando tutti gli altri sponsor, porgo l'attenzione invece su Neafit, perché attenzione, ha momentaneamente sospeso la sua attività in sede, però attenzione, molto presente sui social. Infatti, grazie alla postazione nostra web a Gennaro, faremo vedere la pagina Instagram appunto di Neafit, dove lì potrete trovare tante cose molto carine, interessanti, non solo le testimonianze, ma anche, pensate, delle ricette, ricette light, veloci e consigli alimentari utili per affrontare al meglio questo periodo. Quindi bisogna chiamare all'800 58 77 17 per notare anche un check-up che è assolutamente gratuito, già dal 30 novembre. Quindi per l'apertura, questo è il numero di telefono, Neafit cercatela sui social, su Facebook, Instagram, perché vi farà compagnia per questo periodo, un periodo particolare che stiamo vivendo tutti, ma non dobbiamo dimenticarci la nostra forma e quindi rimanere in forma, oppure possiamo rilassarci, ma poi il 30 novembre, check-up assolutamente gratuito e lì potrete iniziare i vostri percorsi. Grazie a Neafit, grazie Sebino, noi andiamo in pubblicità, ci vediamo troppo finissimo. Dovevo andare io da Neafit, invece mi hanno... Di pubblicità? Pubblicità, signori, a pochi minuti. Ecco. E siamo ripartiti dagli studi di Canale 21, devo dire che questa sarà la settimana della verità, due match importantissimi con al centro l'Europa League, quindi parliamo del Milan, parliamo poi a fine settimana prossima della Roma, ma al centro ci sarà Enrieca, tutte da giocare al San Paolo. Allora, che Napoli troveremo? Io inizio da Sebino Nera. Ah, non so che Napoli troveremo, di certo, è interessantissimo questa settimana. Parliamo del campionato, io lascerei un passo indietro, un metro indietro questa partita di Coppa. Beh, è un'occasione, è vero sì che al ritorno poi le dovrai giocare fuori, ma tanto si parla del presente. Sono due squadre che stanno facendo tutte e due molto bene, secondo me tutte e due insieme al Napoli e altre due o forse tre lottano, lottano per vincere questo campionato e quindi bisogna prepararsi al meglio. Tanto qua una volta si diceva ah, speriamo che non ci siano scodificati, speriamo che non ci siano infortunati, oggi dobbiamo aspettare invece le Asle, cosa dicono, delle positività eccetera eccetera. Ecco, dopo faremo vedere. Partita per partita stiamo impiccati perché se mancano uno o due giocatori importanti, insomma. Ecco. Dopo faremo vedere un grafico di tutti i giocatori poi della Serie A che sono positivi, intanto Isai è ancora bloccato, non ci sarà per il match, così come anche Ozyman. E Nando? Premesso che in caso fuori secondo me in questo momento non conta niente, perché giocare in casa del Napoli o giocare in casa all'Olimpico secondo me è la stessa cosa, non c'è una differenza di pubblico. Infatti noi abbiamo chiamato uno stadio vuoto tuo vero amico. No, io dico che per il Napoli sono una settimana dove può capire, può cominciare a pensare che forse qualcosa di importante può fare. Io dico che l'assenza di Ozyman è importante ma nel momento in cui tu rimetti Mertens, come si deve, al centro del villaggio, cioè gli fai fare la punta centrale, secondo il mio punto di vista ritrovi un giocatore che ti potrebbe servire anche quando cambi modulo. Tanto caro a Ciccio. E allora passiamo subito invece alla palla a Massimo D'Alessandro. Massimo, Milan e Roma sono partite scudetto anche. Per me sì. Richiamo questa parola perché è vero che sono passati un po' di giorni dall'ultima puntata del Bello del Calcio in cui si parlava di scudetto, quindi non posso non venire da te. Non puoi non sfrocoliarmi, diciamo, su questo punto di vista. Ma oggettivamente quella di domenica è una partita di verità per entrambe queste formazioni. Non verrà fuori una sentenza, per carità, di questi tempi di scudetti non se ne assegnano, però potrà dire tanto. E dispiace che a sto giro di impegni per le nazionali, alcuni di cui francamente la storia il calcio avrebbe serenamente fatto a meno, il Napoli esce male perché un quasi sicuro protagonista, perché Cosima stava attraversando un periodo positivissimo, decisivo a Bologna e l'ultima scita in campionato, invece certamente non ci sarà. Sta tentando l'impossibile per almeno recuperarlo in panchina, però sicuramente non sarà decisivo, questo possiamo dirlo. Il Milan invece ha qualche problema con Leao e questo in chiave Napoli è sicuramente una buona notizia. Diciamo che è una partita aperta, senza pubblico, eppure lo sappiamo, questa è una costante che se vogliamo aiuta un po' più il Milan, squadra più giovane con meno pressione forse del Napoli, però... Ma non tutti i mali vengono per nuocere, il fatto che non ci sia Osime, non so che naturalmente ti dispiace, però si potrebbe ritornare ad un 4-3-3 con Mertens prima punta. Ciccio. È un'alternativa, il Napoli ha questo rispetto al Milan probabilmente, che può cambiare, potrebbe cambiare modulo senza avvertire grandi disagi, mentre invece il Milan no. Però io sono convinto che giocherà sempre con 4-2-3-1, quindi poi vedremo come... No, perché noi nelle nostre provabili formazioni, anche stamattina al mattino io ne ho parlato, sì abbiamo considerato un 4-3-3. Magari lo potrebbe mascherare il 4-2-3-1 mettendo alle spalle di Mertens un centrocampista, insomma, Zielischi ad esempio, quindi sarebbe... Però magari... Ma è una partita secondo te da 4-3-3 o da 4-2-3-1? Questa contro il Milan? Capolista? È una partita da vincere, anche se giochi come si giocava una volta con l'1-9, no? All'inizio del secolo scorso. È una partita da vincere perché se tu pensi che il Napoli ha 14 punti e il Milan ha 17, io dico il Napoli con una partita in meno e un punto in meno, quindi il Napoli con una partita in meno e un punto in meno, battendo il Milan si porta 17 punti come il Milan, Sassuolo poi si vedrà che farà. Quindi è una partita importantissima per il Napoli. Se invece il Milan riesce a fare un colpo, allora il Milan prende un po' la prima fuga del campionato, se vogliamo. Quindi da questo punto di vista è una partita molto molto interessante. Il pareggio non servirebbe a nessuno. Io invece vedo una partita che può dare non soltanto un senso alla classifica, ma può dare anche un senso sia al Milan o al Napoli, perché vincere questa partita significa... È una grande prova. Dico che in questo momento ancora... Certo, se Napoli fa 6 punti va benissimo, però è ancora un po' presto, no? Per dare un giudizio su se Napoli e Milan possono... No. È ovvio che se Napoli vince... Non se possono vincere lo scudetto. No, però... possono concorrere al pieno titolo con gli altri. Infatti l'ho detto prima, se tu fai 6 punti comincia a pensare, ma forse qualche speranza ce l'ho, però fino a che non si arriva alla prossima tornata, quella che è Natale, giudizi non se ne possono da tanti. Proprio perché Gattuso stava al Milan. Credo che sia interessante questa cosa del sistema di gioco, del modulo di gioco. Perché se Gattuso che conosce bene il Milan, secondo lui, i due centrali li devi tenere occupati con una prima punta, metti dentro Petagna... No, dai, su. Ci può stare tutto, ci può stare. Sembino, Petagna è alto 1,90. Perdona. I due centrali sulla mobilità iniziale sono lenti. Mi metti in giocatore come lui? Io sto dicendo, per tenerli occupati, metti Petagna, continui col 4-2-3-1 e fai giocare dietro Mertens, può andare bene uguale. Se invece fa un altro tipo di ragionamento, si mette con un 4-3-3, può fare quello che vuole, può fare soluzioni. Mertens ha giocato queste partite dietro a Osimen ed è sembrato un po' col freno tirato, un po' incavolato. Sì, dai, l'abbiamo detto tutti. L'abbiamo detto un po' tutti. Perché deve giocare con questo cristone davanti, gli devi fare i movimenti inversi, lui viene fuori, lui va dentro. Se tu lo fai giocare lì davanti, gli dai un po' più di vivacità, lo riprendi anche mentalmente e psicologicamente e in più non dai al Milan quei punti di riferimento. È ovvio se c'è Osimen, lo metti. Petagna però, secondo me, in questo momento è più utile quando entra a mezz'ora della vita. Non è che un allenatore deve far felice un giocatore che in questo momento è un po' triste, un po' bacchiato e allora decide. C'è la squadra, fai un'analisi attenta dell'avversario e ti muovi di conseguenza. Ecco, quello che mi chiedo, perché molti tifosi sono intervenuti proprio su questo tema attraverso anche i social, di Mertens in una posizione forse scomoda, ma è una visione che vediamo noi dall'esterno, secondo voi, oppure realmente potrebbe essere così? Io ricorderei però che è partito bene, cioè col 4-2-3-1 quest'anno Mertens è partito molto bene e tutti noi abbiamo sottolineato l'approccio con questo gol. Quando non aveva nessuno davanti, poi appena si è trovato qualcuno davanti ha cominciato a non fare più gol e a non avere più gol. Io mi sono convinto che loro ce lo insegnano, lo stato di forma in un atleta è qualcosa che è ondivago nel corso della stagione, per cui secondo me più che una questione tattica è solo una questione che Mertens non è brillantissimo in questo periodo. Ma io non la voglio mettere soltanto sulla tattica, come se la tattica decidesse e facesse vincere le partite, questo assolutamente no. Però io dico che il Napoli ha più soluzioni, è quella di fossilizzarsi su una sola, anche durante la partita oppure in certe partite, secondo me può essere... Allora io ti chiedo, però nello specifico, tu dici ha più soluzioni il Napoli, ma in questa partita contro il Milan, quindi contro il 4-2-3-1, che modulo tu adotteresti? Mancando si menne io metterei tre rapidi, veloci là davanti, cioè penso a Insigne, penso a Mertens e penso a Lozzano. Ecco. Se poi vuoi giocare con... devi mettere tre mediane ovviamente, se fai il 4-3-3, oppure puoi giocare o 4-2-3-1, però dietro Mertens ci devi mettere un centrocampista, ma sempre, perché io credo che la pecca del Napoli sia quella di giocare con quattro attaccanti veri e questo possa essere un rischio troppo grosso in tante partite. Per te, Nando? No, io giocare con Mertens è unica punta, perché lui non ti dà riferimenti ed è uno che quei due lì davanti, i due centrali, se li fa muovere, secondo il mio punto di vista gli può far male. Cioè l'unica punta è dietro i tre? Sì, dietro i tre centrocampisti. E chi sono i tre? 4-3-3. Ah, 4-3-3. Pagaioco e due interni, che possono essere Zilischi o Fabian, e a turno possono fare il lavoro che faceva Mertens quando c'è Osimen, perché sono due, tre quarti centrocampisti con propensione offensiva. Quindi siamo tutti d'accordo, Ciccio è stato un po' più diplomatico, però... Ma deve essere d'accordo, sto ragazzo qua deve essere d'accordo. Ecco, per te invece, Sebino? No, io non faccio mai... Previsioni di schemi? Previsioni tattiche, sì, no. Io ritengo che questi siano i giocatori che possano interpretare moltissimi ruoli, quindi non vedo tutte queste grandi differenze. Massimo, Gattuso quindi sfiderà il suo ex Milan per la seconda volta, perché fine stagione precedente è questa. Insomma, abbiamo scorporato un po' di numeri, perché da giocatore ci sono stati 13 stagioni per lui nel Milan, 468 partite, 11 gol, 20 assist, 11 trofei. D'allenatore, due stagioni, 82 partite, 40 vittorie, 22 pareggi, 20 sconfitte. Un ambiente che conosce molto bene. Molto bene, ha vinto tutto quello che si poteva vincere, con quella maglia addosso, per lui non è una partita, non sarà una partita come le altre. La precedente è finita 2-2. Con 4-3-3 il Napoli e 4-2-3-1 Piole dall'altra parte. Ecco, dall'altro lato invece l'allenatore sarà Ibrahimovic in campo, perché c'è l'allenatore in campo, sappiamo purtroppo sia Pionica il suo vice positivi al Covid, auguri a loro che sarà Bonera in panchina, quindi di fatto Ibrahimovic continuerà a fare quello che ha fatto diciamo in questa quasi anno di nuova esperienza al Milan e a dire all'allenatore in campo. a me questa è una sfida... C'è più paura Ibrahimovic allenatore o Piole allenatore? Secondo me è più Ibrahimovic allenatore, c'è un Ibrahimovic che si carica ancora di più diciamo questa squadra di ragazzi con tanto talento, che il Milan mi fa un po' più paura. Al di là di Ibrahimovic questa squadra, che è una squadra molto forte, perché si appoggiano molto su di loro. Io dico che i due giocatori fondamentali di questa squadra... Sono Chessier e Benazzer. Chessier è diventato un giocatore box to box, come si dice in Inghilterra, giocatore bravissimo, è diventato anche intelligente tatticamente quando all'inizio prendeva e partiva e non si sapeva dove andava. Benazzer è giocatore che sta lì, fa il geometra e sono molto bravi, perché si tolgono dalla marcatura. Chessier è un giocatore che mi è sempre piaciuto, un anno fa si poteva prendere. Sì, vabbè, però... Qui a Napoli... Secondo me quei due in mezzo al campo sono due giocatori fondamentali. Sì, è innegabile che da quando è arrivato di nuovo in Italia, dallo scorso gennaio, Ibra abbia cambiato un po' la storia di questo Milan. Ci si è messa di mezzo anche una pandemia, ma i numeri raccontano... Un Milan che aveva un rendimento da metà classifica ed oggi ce l'ha da altissima classifica. Se vediamo un po' i numeri di quest'anno, praticamente Ibraimovic in Serie A ha segnato otto gol e tutto il Milan ne ha segnati quindici. Praticamente ha segnato più gol da solo che tutta la squadra messa insieme. Con due dei quali sul rigore. Anche sul rigore. E ne ha sbagliati anche tanti. Cinque presenze però. Però con cinque presenze. Hai capito? E sono pochissime. E in totale ha segnato 20 gol nelle 29 presenze collezionate. Quindi è sicuramente un uomo che ha cambiato la manovra di questo Milan. Ma da casa vi chiedono quanti di voi qui presenti a inizio stagione avrebbero pronosticato uno scontro d'alta classifica, ormai siamo sotto la decima di campionato, tra queste due squadre? Io no. Il Semino è onesto, dice no. Era complicato. Non pensavi che il Milan riuscisse a fare questo mercorso. Era complicato onestamente pensarlo. Però è vero anche che il Milan, da quando ha ripreso il campionato fino alla fine del campionato scorso, non ha mai perso. Ha fatto una serie di... 24 risultati. Quindi il Milan sta solo continuando quella striscia. Non è che il Milan è proprio una sorpresa sorpresa. Sta continuando quella striscia. Il Napoli invece è un po' ripostruito. No, però con questo campionato qua non ci si poteva aspettare anche questo tipo di classifica. Non si poteva aspettare la Juventus in questo modo. Quindi essendo un campionato anomalo, è anomalo anche che Napoli e Milan giochino una sfida a scudetto domenica. Inizialmente è ipotizzabile vedere il Milan quarto, quince. Sì, insomma, lì da quelle parti. A Sembino e a Nando Francesco chiede anche se c'è veramente la differenza senza allenatore in panchina, oppure quando andrai in campo poi la differenza sarà assottigliata. Beh, insomma, diciamo che l'allenatore ti indirizza, ti dà qualcosa, ti fa vedere quello che il giocatore non riesce a vedere perché è annebbiato, tra virgolette, dalla partita. E quindi ovvio che una guida tecnica serve, assolutamente. Penso che manchi più come personalità. Sì, come personalità, però, diciamo che è vero che, scherzando, Massimo dice che Ibrahimov ci farà vedere in campo, no, Ibrahimov ci fa il giocatore in campo. Poi dopo, al limite, può dare una scossa alla squadra, ma a livello tattico, tante volte i giocatori, anzi il più delle volte i giocatori in campo non riescono proprio a vedere niente. Già vedono poco gli allenatori, i giocatori ancora meno. Ma li ascoltano gli allenatori, perché tra l'altro adesso senza pubblico. No, adesso senza pubblico, senza pubblico. Ci sono tre aspetti. Soltanto quello che sta sulla fascia. Il lavoro lo fai durante la settimana, quindi il giocatore alla domenica sa già a livello tattico cosa fare, no? Però l'allenatore incide tre volte su una partita. Primo sui singoli, no? Per caricarli, per motivarli, eccetera, eccetera. Secondo, l'allenatore riesce a vedere come si muovono gli avversari. E quindi di volta in volta prendi decisioni, che dici a uno dei tuoi, vall'attaccare, ti rendi conto se è ingiornata o meno l'avversario, eccetera, eccetera. E poi cambi. Però in questa partita l'imprevedibilità di Mertens potrebbe essere anche la chiave. Io sono convinto, guarda, io sono convinto che Mertens può fare bene giocando. Se lo ripristina, lo rimetti lì davanti. Gli dai veramente, secondo me, una soddisfazione grandissima di ritornare a fare quello che ha ha fatto meglio negli ultimi cinque anni, quante so che fa a Napoli? Quattro anni. Quattro anni che sta a Napoli. Ma se dovesse, facciamole... Sono otto anni che sta a Napoli, ma sono quattro anni che fa la prima pompa. Sì, da quando si è fatto male Mirica. Sì, da Sare, dall'invenzione geniale di Sare. Tocchiamo ferro, facciamo cosa, fate quello che... Ma se non dovesse funzionare... E' uguale, però... E' uguale allora... Lì dovrebbe essere poi bravo, però... Ha funzionato una vita, anche se non funziona, cazzo. Invece la domanda che vi fanno da casa... Ma se non dovesse funzionare, torniamo a quello che ha detto lui. Probabilmente il momento è quello che è. Probabilmente. Ma guarda che invece... In che senso? Cioè non è che deve diventare... Perché lui ha detto, secondo lui, anche secondo me sono d'accordo, Mertens non sta attraversando un momento felicissimo. Guarda che non deve essere un valore sottratto il fatto di giocare col 4-3-3. Deve essere un valore aggiunto, come dice... No, ma ci mancherebbe. Nel senso che posso cambiare. In corsa posso pensare, no, aspetta un attimo, fammi pensare, Zeriski, e gli metto... Io mi sto rendendo conto che a voi piace molto questa posizione di Mertens nel 4-3-3. Io vi dico che secondo me può fare benissimo. Ci ha fatto 100 gol, ci ha fatto. Ma ci mancherebbe altro. Può fare benissimo anche... Ma probabilmente ha ragione lui quando dice che non sta attraversando un momento... E se quel momento un po' grigio lo sta attraversando perché sta giocando in ruolo che non rispecchia proprio le sue caratteristiche... E' un po' anche che prima quando calciava a giro, oh, prendeva sempre la porta e faceva sempre gol. Capito? Ma adesso devi partire da dietro. Adesso a prescindere dal ruolo, se gli arriva la palla o va un metro alto, o va un metro a destra, o un metro a sinistra... Ragazzi, nel calcio succede, si attraversano un po' santi. Forse soltanto... Gennaro diceva una cosa. Ha fatto gol su punizione. A mio modesto parere, il discorso della forma in questo momento non vale. Perché ha fatto due partite in nazionale, una dietro l'altra, una più bella dell'altra dal punto di vista fisico. Giocando in un 4-3-3, anche se con Lukaku davanti e facendo un gol strepitoso su punizione. Secondo voi Mertens come ha giocato? Non benissimo, dici Massimo? No, la partita ha fatto gol su punizione bene. Nell'ultima... Hanno giocato con due moduli diversi. Perché la prima era 4-3-3 con De Bruyne, la seconda era un 4-3-3 in cui c'era un altro attaccante. Non per difendere per forza Mertens. Però, voi l'avete visto, tornare sulla linea dei difensori quasi, fare il centrocampista, andare a prendere palla e portarla avanti. Mi sembra logico che uno che fa questo tipo di gioco con questo sistema, poi quando arriva pure vicino alla porta e si trova un altro davanti, diventa complicato fare pure gol. Perde proprio la peculiarità del suo pensiero. Cioè, questo sistema di gioco toglie qualcosa a Mertens, sicuro. Allora, faccio autocritica per prima. Abbiamo cominciato la trasmissione da una ventina di minuti. Abbiamo parlato di Ibrahimovic, di Mertens, di Gattuso, non abbiamo parlato di Insigne. Aspetta, adesso ci arriviamo. Certo, ci arriviamo. Ce l'abbiamo in scatletta. Ma perché Massimo è conduttore, quindi sa che è insignore. Lui è insignore. Ma non è. È perché la partita di Domenica è la partita per me di Insigne contro Ibrahimovic. C'è il tema. Perché fatichiamo a dargli questo tipo di responsabilità? No, non è vero. No, non è vero. Quello che ha fatto in nazionale, per me, personalmente, non mi sorprende nemmeno. Ma in questo momento è crescita tantissimo. Perché lo sapete che la penso su Insigne, che ribadisco, lo dico da un bel po' di tempo, il giocatore italiano più forte in attività, lo è già da un pezzo. E qui a Napoli purtroppo fatica ancora a convincere tutti. Questo lo sa lui stesso, lo ha anche candidamente ammesso nell'intervento alla Rai nel dopopartita. Insigne può diventare per il Napoli, ma non soltanto in questa partita. Giallo lo è stato anche in passato. Ma può diventare stabilmente per il Napoli il giocatore che trascina tutti. Il perno principale su cui ruota. La squadra potrebbe identificarsi, d'ora in avanti, soprattutto dopo le prove nazionali, in Insigne e riconoscerlo come leader della squadra. Leader che non c'è nella squadra del Napoli in questo momento. Invece leader in questo momento può diventare Insigne, come Ibrahimovic nel Milan. Poi se tu mi dici tra Insigne e Ibrahimovic... Perché non c'è leader in questo momento? Perché da un po' di anni nel Napoli non esiste leader perché il leader è stato un po' il gioco. È stato il gioco che ha valorizzato i giocatori, ma non c'è stato il giocatore simbolo. Però quante volte abbiamo detto che il leader nelle stagioni passate era anche Mertens? No, ma leader io intendo un'altra cosa, intendo proprio l'uomo carismatico, quello che nello sfogliatoio decide, quello che dice date la palla a me e non vi preoccupate. Questo nel Napoli non c'è stato negli ultimi anni, era il gioco. Con il signor Sarri esisteva un leader, il leader era il signor Sarri. Certo. Era il gioco del signor Sarri. Sono stati vari leader, ma non esattamente la tipologia che dici tu. Se tu lo intendi come i vecchi capitani di una volta, dentro uno sfogliatoio, chi parla con l'arbitro, posso essere d'accordo con te. In campo forse qualcosa abbiamo visto però a livello di leader. Di chi? Amsic poteva essere uno di questi. Leader silenzioso Amsic, sì. Che poi il suo carattere lo porta a essere un ragazzo discreto. Perchè, perdiamo la domanda di Ciccio, se dovessi definire il leader del Napoli, di questo Napoli... Di questo Napoli sinceramente nessuno davanti, nessuno in mezzo al campo e mi vado a prendere un difensore, mi vado a prendere. E chi deve appigliare il difensore per farlo? Lui è l'indiziato. Gennaro. Volevo innanzitutto ringraziare i tantissimi che ci stanno scrivendo da casa, Luigi Mesca, Oreste Salvadori, Giovanni Maresca, Pasquale Marino, Franco D'Ambrosio, li faccio tutti i nomi. E per tutti, percentuale bulgara, domenica sera ci deve essere un 4-3-3 contro il Milan, ma soprattutto ci deve essere Mertens, anche nei pochi casi in cui il 4-2-3-1 è votato. Vi fanno una domanda però, perché un altro calciatore che ha fatto benissimo in questo torneio di nazionali non l'abbiamo proprio citato, è Elmas. Ha qualche chance di giocare in mezzo al campo? Elmas. Guarda, ci sono tre partite, io penso che Elmas possa avere il suo spazio, anche perché Gattuso mi sembra che abbia dimostrato che Elmas ci tiene, giusto? Questo è il mese delle rotazioni. Quindi adesso ci sono 10 partite in 30 giorni, giocano tutti, cioè non è possibile che un giocatore faccia 10 partite, quindi è ovvio che ci sarà spazio per tutti. L'importante è che i giocatori entrino con la testa giusta e che non pensino che giochino le partite minori, perché nessuna partita è minore, perché anche quella con il Riega, se tu la perdi non è minore, diventa una tragedia, perché dopo si riflette sulla partita della domenica e quindi in questo momento ci vuole la testa di tutti quanti i giocatori. Beh, però per rispondere in maniera più precisa all'ascoltatore, circa la partita di domenica a Elmas, un ragionamento se 4-3-3 deve essere, come francamente anche io auspico, anche perché se no veramente non si spiega se il Napoli deve avere, perché tutte le squadre, quelle accorsate, tatticamente devono avere un paio di alternative. No, no, dipende anche dalla presenza di Baccaio Co. I tre centrocampisti, c'è un dubbio Baccaio Co. che ha avuto la febbre, si è temuto anche il peggio, il contagio Covid, che non è fortunatamente. Recupererà fino a domenica. Oggi si è allenato, però un paio di giorni ha avuto la febbre, per cui da verificare. Due giorni, ha saltato due allenamenti. da verificare, però è anche vero che non è un nazionale per cui è stato a Castelvolturno è stato a Napoli in questi giorni i tre chi saranno? io e il Massimo Lazzarderei perché tra lui e Zielinski è quello che è venuto meglio fuori dalla purtroppo brutta esperienza Covid rispetto a Zielinski è più pronto l'abbiamo visto anche un po' in nazionale svagato ma in che posizione del campo? dietro Mertens? no la vogliamo vedere è la probabile formazione che noi abbiamo fatto in grazia così partiamo da quella e cerchiamo di capire quali possono essere le pedine fondamentali per battere il Milan domenica allora questa è la probabile formazione che noi abbiamo tirato giù con un 4-3-3 con Meretta in porta dopo il K.O. di Ospina ci sono un po' di ballottaggi per esempio Lozano ha fatto benissimo in queste due partite con la nazionale due amichevoli anche un gol benissimo Cicci mi ha guardato storto mi hanno detto benissimo no 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 ha fatto molto bene però Politano non è andato in nazionale quindi ha avuto più tempo per recuperare ecco quello può essere un ballottaggio così come in difesa per esempio non ce ne saranno perché senza Isai, Mario Rui e Di Lorenzo ovviamente saranno i titolari e Meretta potrebbe essere visto anche il problema fisico che ha avuto Ospina con la Colombia potrebbe essere il titolare di questo concetto ah un problema Ospina sì ha avuto un problema muscolare ha avuto un problema muscolare insomma io non penso che cambi cambi molto o no? assolutamente no la domanda non te la faccio però Massimo fa una domanda a Salvatore da casa ma abbiamo parlato di Osimen e Petagna Osimen e Petagna 4-2-3-1 ma non è che questa poi è una bocciatura per Petagna se non gioca domenica sera giustamente Gennaro mette non io ma Salvatore vuoi insuffare potrebbe essere una bocciatura che il Napoli ha l'occorrenza tre prime punte e qualcuno deve restare fuori ma Petagna sa benissimo il ruolo Petagna io penso che sappia benissimo che ruolo abbia all'interno del Napoli quindi poi giocherà titolare con Irieca e poi dopo ogni tanto entrerà io penso che lo spazio di Petagna alla fine ci sarà perché vai a vedere durante l'anno il Napoli gioca 50 partite Petagna anche se ne gioca 30 ha fatto un campionato ha fatto una stagione è proprio quello che diceva anche se Vino è in corso d'opera poi si vedrà naturalmente l'allenatore sarà lì bravo e capace di leggere la partita e quindi far entrare poi i vari... ma poi la partita è troppo importante per cui eventualmente Petagna comprenderà troppo importante ed è la prima partita dopo la sosta quindi è logico che giocano i titolari capito? cioè non c'è bisogno della rotazione ragazzi siamo nella normalità perché prima fino a qualche anno fa gli allenatori si lamentavano perché c'erano gli impegni della Coppa del campionato e della Coppa Italia abbiamo allargato le rose quanti sono? 25? e ragazzi qualcuno dovrà stare fuori o no? però lo sai molti lo sanno qual è il loro ruolo all'interno della squadra e si allenano sempre con impegno bravi ragazzi poi arriverà anche per loro visti proprio tutti questi impegni l'occasione per farsi... a Goulam a che fine affatto? no Goulam sta bene no Goulam sta bene anzi c'è una... sta bene una bellezza ho visto oggi da uno sponsor con 4-5 iPhone nuovi quindi sta una bellezza no no sta bene ha un tono ciccio quando... no dico io sorrido ad ogni tua... cioè ma ragazzi ma adesso a parte... perché hai dei tempi televisivi che sono pazzeschi però Claudio a parte tutto ma tre anni fa quando Goulam era... cioè era impossibile pensare che Goulam assolutamente cioè doveva andare che ne so al Barcellona Goulam adesso non riesce a giocare neanche quando non c'è più nessuno lì a sinistra beh giocava in un contesto di calcio diverso diciamo così no dai era proprio forte Goulam cioè Goulam era un terzino moderno non ti sto dicendo forte o non forte ti dicevo che era una squadra che giocava sui tempi certo sì ma forse più organizzata se il Napoli pensa a un terzino sinistro capace di attaccare Emerson Palmieri ad esempio ci pensano due però no ci pensano due ma il Napoli ce l'aveva uno forte forse anche più forte di Emerson Palmieri che era Goulam certo fino a qualche anno fa poi ha avuto un doppio incidente un doppio problema al ginocchio e quello l'ha frenato sicuramente beh non è mai tornato non è mai tornato però adesso sta bene per cui lì qualche chance se la gioca lì sull'alto di sinistra però io insisto se 4-3-3 sarà e se Bacayoko io non ci credo eh? io non ci credo tu non ci credi tu non ci credi mi piacerebbe vederlo mi sembra però poi la maschera non sia quando mi dici io non ci credo perché secondo me è la partita giusta per fare un 4-3-3 perché Gattuso ha deciso per quel disegno recupererà Bacayoko e giocherà così come ha giocato le altre volte andrà avanti per la sua strada vedrai che è così sarà così? Gattuso quindi per te gioca a Petagna Gattuso è calo a prese c'ha un po' la capa tosta no? no vabbè quindi giocherà a Petagna sì a questo punto no dice 4-2-3-1 con Mertens e dietro Gelischi e alle spalle di Mertens si apre o anche Ermas ci sono delle candidature però potrebbe essere un'altra razza però tra Gelischi e Ermas onestamente quello che mi sembra che abbia più capacità non c'è dubbio ma se sta bene però per i vostri giocatori ne parlavamo un attimo fa se Bacayoko non dovesse farcela allora cambia tutto cambia tutto il discorso chi gioca a Bacayoko non li puoi proporre due mediani se non hai Bacayoko non li puoi proporre non li puoi proporre il Napoli se proprio vogliamo trovare non lo devi mettere tre se vogliamo trovare una pecca la rosa del Napoli mai tanto completa negli ultimi anni almeno con le coppie in ogni ruolo un'alternativa con le caratteristiche di Bacayoko il Napoli non ne ha a disposizione ce l'aveva Allan non c'è più Massimo non ce ne aveva prima non c'era neanche un giocatore con cui ancora che gli sei di Bacayoko adesso ce n'ha uno giocherà Demme Demme? beh certo sì ma se metti Demme e Lobotka fai i due mediani però no no cambia la palla come te la danno? Demme, Kozeliski e Fabian fanno quattro tocchi prima che ti danno la palla Demme e Lobotka allora potresti essere costretto a cambiare la mezzo a fare i tre invece che i due se dovesse venire meno Bacayoko cioè fare quella linea tre lì con Fabian Zeliski e Demme al centro beh è una possibilità allora andiamo un attimo a casa continuate a scriverci sulla nostra pagina di Facebook giochiamo d'anticipo perché lì c'è inserito il sondaggio ma poi potete fare anche qualsiasi domande ai nostri ospiti Gennaro sì c'è Davide Izzo per esempio che ci fa notare che avendo solo due punte sarebbe più giusto agire con il 4 con il 4 delle tre quindi cambiare cambiare modulo e poi magari far subentrare Petagna a partita in corso per poter cambiare la partita ma vi fa notare che giocando Zeliski dietro le punte in pratica significherebbe avere gli stessi giocatori che abbiamo chiesto per il 4 dei tre utilizzati in un modulo diverso quindi in realtà cambierebbe poco ma guarda che questo lavoro qua con Bagaioco Fabian e Zeliski tu lo puoi fare anche con Fabian perché Fabian è un trequartista quindi puoi mettere Bagaioco Zeliski Fabian dietro Mertens cioè non cambia più di tanto perché le caratteristiche sono le stesse sarebbe truccato il disegno è camuffato è un 4-3-3 col vertice alto perché c'è vertice basso se giocano con Bagaioco e i due interni vertice alto se gioca Zeliski e Tromertens ma sempre tre centrocampisti però come è importante secondo me a parte questi moduli l'interpretazione della gara la vuoi fare tu? ma certo vuoi giocare nella metà campo del Milan è un conto se li vuoi aspettare è un altro conto sì 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 cambia eh però Sebino se tu giochi con loro se tu giochi con questi qua cioè se giochi col 4-2-3-1 vuol dire che tu vuoi fare una partita un po' più offensiva d'attacco cioè non puoi pensare che sai perché 4-3-3 può diventare 4-5-1 cioè in fase di non possesso tutti abbassi li aspetti e poi riparti e tu col Milan attaccheresti oppure aspetteresti faresti la partita d'attacco non esiste più come dicevamo prima il fattore campo e già questo disturba un po' gli allenatori perché comunque ragazzi uno stadio conta ma anche perché ci sono studi scientifici su queste cose è il dodicissimo uomo in campo ok io il Milan lo voglio tenere nella sua metà campo è la stessa idea che ha il Milan perché alla fine secondo me dietro loro qualcosa combinano sempre di guai e quindi Verona Milan se tu hai visto Verona Milan nei primi 25 minuti il Verona li ha attaccati 2-0 2-0 perché è l'unica cosa che loro sicuramente forse non avranno Leao non ce l'hanno sicuro quindi Leao è uno che a campo aperto è uno che è pericolosissimo giocherà Gioca a Castiglieco o se alle Mekers se giocano vediamo la formazione del Milan Gennaro sì nel frattempo che dalla regia ce la propongo innanzitutto ci sarà una sfida a distanza perché se da una parte c'è Insigne dall'altra parte c'è Donnarumma li abbiamo visti molto anche sui social che in questi giorni di nazionale si sono divertiti insieme e adesso da compagni diventeranno avversari uno da una parte uno dall'altra poi ovviamente Calabria e Teo Hernandez che secondo me è il terzino sinistro più forte in questo momento in Italia e con Chier e Romagnoli in mezzo alla difesa come avete detto voi Benazer che sì al centro del campo e poi Salemekers a destra Rebic a sinistra perché ricordiamo che è infortunato Raffaele Ha una lesione al muscolo femorale proprio qualche ora fa l'esito delle visite quindi non ci sarà domenica e davanti al terzetto offensivo ovviamente ci sarà Zlatan Ibrahimovic che è inamovibile ora non vorrei sbagliare questa è l'identica formazione dieci undicesimi c'era Castiglievo non c'era Salemekers che è del 2-2 l'ultima partita contro il Napoli però al di là del fatto che anche tutti i tifosi ne abbiamo parlato qui in studio dei moduli della parte tecnico tattica eccetera ma qui c'è una grande componente mentale dei giocatori del Napoli che entreranno in campo con una grande motivazione perché comunque Milano è capolista perché comunque sta facendo un buonissimo campionato il Napoli non si smettisce nei grandi match beh ha ragione Claudia no? cioè è una questione Claudia ha sempre ragione ma in particolare stavolta è pilotata ma non sempre secondo me di motivazioni che ne ha di più domenica perché nel calcio la motivazione fa la differenza talvolta chi ne ha di più? il Milan tutto sommato gioca anche per un pareggio un pareggio aspetta secondo me il Milan è molto motivato se viene a vincere a Napoli ragazzi è tanta roba le motivazioni sono un opposto perché poi la settimana dopo c'è il Napoli-Roma che è un altro sconto diretto tutte e due tutte e due hanno grandi motivazioni alla pari poi secondo me stanno una perché è il significato della prima cosa oppure del Napoli e il Milan se dovesse vincere è staccandolo il Milan quest'anno scusa Claudia come motivazione noi siamo lì il Milan quest'anno ha approfittato del fatto che gli stati sono chiusi io a me non me l'ho levata la testa che ci sono dei giocatori che hanno reso di più perché sono tutti i risultati che vediamo la domenica sono tutti non è solo il Milan però te posso dire una cosa allora la Juventus allo stadio col Verona non pareggia col Verona vince ma io sono convintissimo quasi a pieno io sono convintissimo l'Inter con non so che ha pareggiato col Parma secondo me non pareggia vince sono convintissimi quindi è diverso però si gioca il San Paolo tu non pensi che senza pubblico uno stadio vale l'altro non è comunque casa del Napoli in qualche modo lo so ma per ora cioè si sono abituati ormai allo stadio vuoto e quindi da una parte dall'altra e qui il lavoro dell'allenatore è importante Napoli ha perduto il Napoli ha perduto due partite ha perduto due in casa cioè col Sassuolo il Napoli ha perso 2-0 col Sassuolo cioè per me non è possibile Nando invece Tony ti chiede per mister Ursi dato che è stato provato anche lo scorso anno con Ancelotti contro il Liverpool non sarebbe ideale giocare con una difesa a 3 e mezzo Maximovic Manolas e Koulibaly con Dino Renzo staccato a destra guarda se tu ci lavori si può fare il problema che lì a sinistra Koulibaly Maximovic e Manolas come tre centrali lì a sinistra poi dopo quando si allinea la difesa lì a sinistra se c'è qualcuno che punta l'esterno sinistro che non l'ha mai fatto è dura è dura capito a 3 e mezzo ci puoi giocare se tu a sinistra ci giocò alla Roma un anno non mi ricordo con chi però lì a sinistra c'è un terzino che all'occorrenza poteva fare anche il centrale però un terzino nell'immaginario collettivo esatto le squadre che giocano a tre la gente pensa che il problema siano questi tre no il problema il problema sono gli altri non quei tre che i tre stanno sempre lì chi ha più motivazione lo chiediamo anche ai nostri tifosi Gennaro mettiamola sulla nostra pagina Facebook giochiamo in anticipo questa domanda perché davvero sarà una sfida importantissima c'è anche un'altra domanda per Nando abbiamo giocato la grande sfida contro la Juventus questa è la prima grande partita stasera ci sono tanti fan per Nando che arrivano domande per loro è verissimo anche quello un sacco complimenti a Claudio stasera non ha ragione perché la prima grande sfida dell'anno il Napoli non l'ha giocata non l'ha potuta giocare quella di Torino per cui anche per i tifosi sarà ha battuto l'Atalanta che non era niente male prima che la Juve lo sappiamo è la partita delle partite non abbiamo potuto giocare insomma c'è c'è un concetto a sé fuori dal campionato però adesso stai battendo stai giocando con la capolista cioè un doppio test match ma per i tifosi questa è la prima partita che veramente sentono più della Roma più dello scontro diretto con la Roma io sono molto curioso di vedere come andrà a finire lì sull'out di sinistra lo scontro Calabria in signe come dire con un pizzico di apprezzione ma in chiave Milan così noto il ritorno al San Paolo di Chier ricorderete il placcaggio che fece i danni di Llorente non visto clamorosamente in un Napoli a Tana allora si poteva fare adesso con il Covid non si può fare lo facendo tutti bene però se li prendi uno per uno stanno facendo un campionato lo sai chi non sta facendo bene di questi? Romagnoli 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 è quello che non sta facendo bene però l'ultimo nazionale non sta giocando invece io vi chiederei il pericolo il pericolo cioè quello che il Napoli dovrebbe riuscire a fare è far arrivare pochi palloni a Ibrahimović eh questo è questo è il grande tema secondo me se la crea se la crea l'opportunità eh lo so si va a cercare lo spazio il problema la grande bravura di Ibrahimović è che lui si muove tanto Rebic Cialanoglu Salemegers prendono e si inseriscono quindi il Napoli dovrà stare attento proprio a queste cose qua questo tipo di modi le spizzate di testa questi che vanno dentro queste cose perché lui spizza di testa e gli altri vanno dentro e per le caratteristiche di Teo Hernandez giocatore pericolosissimo mi piace moltissimo è meglio avere in campo al primo minuto con Egoe Lozzano oppure Politano secondo voi? no per me lo stesso basta che lo attacchi tenerlo impegnato perché se non è una fase difensiva qualche pecca ce l'ha no sicuramente qualche pecca ce l'ha però se prende campo e ti costringe a fare il difensore Teo Hernandez è dura infatti non deve succedere questo ecco perché se c'era se sta bene Lozzano se sta bene Lozzano ancora peggio aspettarlo con un po' di coraggio in più per questo io penso che una chiave tattica possa essere un 4-3-3 perché Teo Hernandez invece di attaccare subito Lozzano lo attacca ma poi in seconda battuta il centrocampista scivola esterno e va a fare il raddoppio perché se no trova se supera Lozzano trova campo e dopo va quindi ovvio che Gattuso è bravo a studiarsi queste cose non è né sicuro 4-2-3-1 né 4-3-3 è chiaro che il centrocampista più vicino non deve lasciare quello spazio lì pronto subito andrà a chiudere se per caso trovano qua tu hai visto il Milano da vicino perché hai commentato la partita con Lilla ecco a San Siro eri presente una capatanta questa è la domanda che ti è arrivata da Vincenzo ti chiedeva appunto Nando visto che tu l'hai visto da vicino perdere dopo 24 risultati utili consecutivi dacci la formula lo sai che cosa è andata in difficoltà è andata in difficoltà sulla sull'agilità dei giocatori del Lille che in fase offensiva sono come quelli del Napoli veloci rapidi però sono stati però erano sono stati più bravi quelli del Lille a sacrificarsi a tornare a fare anche la fase difensiva e quindi che vuol dire quando tornano il Milan 30 attacca ai 30-40 metri di campo loro sono stati bravissimi ad andare sugli spazi quindi il tallone di Achire l'abbiamo però trovato sì assolutamente sì diciamo che quella è stata dove Lille ha fatto una partita perfetta il Milan tutto sbagliato poi Donna Roma ha fatto una papera su un tiro da lontano però se la sono meritata e devo dire che le caratteristiche del Lille gli attaccanti sono le stesse di quelle del Napoli e sicuramente Gattuso che ha visto quella partita sa benissimo che se tu li fai arretrare un po' gli dai campo dietro con che modulo giocava 4-2-3-1 4-3-3 mi sembra 4-2-3-1 con gli azici dietro la punta dietro David e due esterni 4-2-3-1 4-2-3-1 fatemi passare questa cosa secondo me il Milan sta facendo troppo senza gente senza pubblico la Balaustra a San Siro ti ricordi Sebino che è la Balaustra che te fanno eppure non ti dicono niente mi sembra tutto strano però Sebino infatti ha risposto a questa domanda iniziale tu ti avresti mai pensato di trovarti in uno scontro diretto contro il Milan così per una sfida quasi scudente no ma francamente no ma soprattutto senza l'Iuvio di mezzo cioè la lavena notizia ragazzi è che quest'anno la Juve fa una fatica terribile aspettiamo un attimo però la Juve ha 13 punti con 3 punti che le ha presi a Napoli aspettiamo un attimo perché si potrebbe fare lo stesso discorso dell'Inter perché poi dici si risveglia perché la Juve ha preso Pirlo come allenatore che non ha mai fatto un allenamento appunto è il secondo allenatore di seguito che sbaglia la Juve è il secondo allenatore di seguito che sbaglia la Juve ma con primo ci ha vinto lo scudetto ha vinto lo scudetto ha vinto lo scudetto un campionato anomalo ma perché gliel'hanno fatto vincere dai per mancanza di avversari ha vinto lo scudetto dai su ma l'ha vinto per mancanza di avversari non l'ha vinto Sarri lo scudetto ma l'ha vinto il gioco di Sarri tant'è che l'hanno poi cacciato è un'idea aggiungo una cosa però perché io ho rispetto per le persone per il lavoro che fanno eccetera eccetera se Sarri andava a Liverpool avrebbe fatto delle cose meravigliose perché? perché la disponibilità dei giocatori ragazzi volente o non volente conta ma conta da morire alla Juventus non l'ha avuto questa disponibilità lui non l'ha avuta e io ti dico che se aveva la disponibilità anche da parte dei giocatori avrebbe vinto il campionato già tre mesi prima già tre mesi prima sono d'accordo con te ma non l'ha avuto la mano di Sarri non si è mai visto perché ha vinto perché alla fine comunque ha vinto però l'allenatore bravo è quello che riesce a coinvolgere la squadra dei giocatori ma come fai? come fai? che gli vai a dire a questi giocatori qua? perdonami tu non hai a che fare con questi ragazzi qua che giocano al City che giocano al FIFA ma non pensi se è stato un errore come prima mossa arrivare alla Juve e andare a cercare Ronaldo aveva necessità e andare a cercare Ronaldo de Stad sulla barca e secondo te c'è stato lui era tutto preordinato si erano stancati di sentirsi dire ah come giocate male e hanno fatto una scelta siccome Guardiola non si muoveva rimaneva Sarri punto ma ripeto però anzi ti dico aggiungo se Guardiola andava alla Juve non avrebbe avuto la stessa disponibilità da parte dei giocatori esatto però il fine giustifica i mezzi la Juventus l'abbiamo vista in questo campionato il concetto di Massimo va cavalcato perché bisogna approfittare cioè poi tutto torna a questo campionato che non ha un padrone è lì in classifica non ha il padrone questo è l'attivo di vettura e perciò bisogna ripetare ma magari se arrivasse alla penultima domenica si giocano il campionato quattro squadre cinque squadre sarebbe divertentissimo magari secondo me può essere questa la stagione pensa può essere questa la stagione allora invece noi abbiamo un'altra grafica alle mie spalle di Osimena riusciamo a capire qual è la situazione di Osimena fermo al palo in stagione otto partite con due gol in nazionale una partita e un gol un grande giocatore che abbiamo visto in campo che ha rallentato per un problema un problema che però poteva essere più grave invece non lo è ma tempi di recupero Gennaro no quando si dice sliding door no ciccio era partito benissimo questa sosta delle nazionali per Osimena entra la Nigeria vince 4 a 0 lui segna un gol in un attimo lui si fa male la Nigeria dirà 4 a 4 con la Sierra Leone e lui resta fuori per almeno 2-3 settimane perché poi il risponso delle visite fatte ieri a Roma per l'attaccante nigeriano ci dice di una lussazione alla spalla destra la spalla non quella operata nel 2018 che invece è alla sinistra un sospiro di sollievo perché non dovrà essere operato ma comunque i tempi di recupero si aggirano intorno ai 15 giorni quantomeno lui oggi è tornato a Castelvolturno è tornato ad allenarsi tra campo e palestra dovrà fare un po' di recupero io credo anche per quello che ha detto Massimo prima è un po' complicato pensarlo anche in panchina domenica se ci dovesse essere sarebbe appunto molto iconico come gesto ma Gattuso spera di ritrovarlo quantomeno la prossima domenica contro la Roma quella è una speranza la prossima domenica contro la Roma potrebbe farcela la speranza è di recuperarlo per la partita con la Roma ma non è certo anche se fosse con un tutore beh ricordiamo che Napoli lui si sta allenando oggi è tornato non si allenava da cinque giorni oggi è tornato a Castelvolturno però con il tutore ha fatto un po' di cicletti in palestra un po' di corso ricapitolando tre partite tre centri avanti dai è vero Mertens col Milan e Tania in Coppa e così mai con la Roma potrebbe essere un quadro che potrebbe anche stare sarebbe già un quadro diciamo un recupero ottimista schierarlo titolare poterlo schierare già titolare contro la Roma sarebbe una grande cosa ricapitolando questo giro di partite della nazionale è costato a Napoli il giocatore più importante di tutti che ha pagato di più Simen Isai che comunque tra i più informi in assoluto utilizzato in un ruolo non suo e splendidamente da allenatore in questo periodo Ospina che però fortunatamente pare che non sia nulla di grave anche Rachmani il giocatore che non era entrato ancora nelle rotazioni avrebbe fatto una partita perché avrebbe giocato sicuramente già domenica contro il Milan quindi le nazionali fanno male hanno fatto male in qualche modo però hanno fatto male a tutti i nazionali tra covid tra infortuni è ovvio che le nazionali adesso sono a iattura però c'è stata una grande lotta tanti dei presidenti per non giocarle queste partite ma non è servita la FIFA non gli interessa niente la battaglia che De Laurentiis devo dire ha iniziato da solo quest'estate poi si è unito in corso d'opera un po' marotta contro questa Nations League adesso per carità ci fa piacere che l'Italia giocherà questa finale l'anno prossimo i presidenti di calcio hanno lottato tutto l'anno per far ricominciare il campionato perché? perché c'erano delle perdite perché il calcio andava l'UEFA e la FIFA la pensano allo stesso modo cioè se non giocano già è saltato il campionato d'Europa e quindi è stata una perdita non so di quanti milioni di euro cioè la FIFA e l'UEFA ti fanno giocare sempre adesso perché devono recuperare a livello economico ma la Nations League sono introidi che purtroppo entrano ma i rischi sono troppo ma per dei professionisti che pagano i club non li paga prima erano solo amichevoli adesso l'hanno spostato in un torneo ma sono amichevoli che hanno invece questo vestito sono diritti televisivi nelle banche insomma ci sono i soldi ma voi siete così sconvigli queste partite i Nations League diciamo tolta la Final Four abbiano un riscontro televisivo così importante io penso che ragionevolmente si poteva pianificare in maniera diversa evitandole dunque dando ai vari campionati nazionali un po' più di agio per cambiare per posticipare delle partite causa covid sempre però inevitabilmente andavi ad interrompere un meccanismo cioè come dice Nanno di tutto di un lavoro di tutto l'inturagio che ruota intorno a questa partita hanno tolto il campione d'Europa con un dolore che qualcuno può immaginare cioè la situazione è quella che è dice salviamo il salvabile se lo possiamo fare lo facciamo questo è il concetto la Nations League ha preso il posto degli amichevoli la Nations League si poteva tagliare a pie pari senza secondo me fare feriti ma non inizio stagione perché questi sono contratti pluriannali Heineken prendiamo Heineken che è il primo credo degli sponsor questo ha già messo i soldi devi salvaguardare comunque un bigliardo per la Nations League dall'Heineken amico mio devi giocare se per un anno nel calcio non vedi Heineken da qualche parte ragazzi è una remissione d'immagine ho capito ma tu rischi di qui a qualche anno se continui a perdere di credibilità che non è che non viene Heineken non viene anche il secondo il terzo è lo stesso ragionamento della lega della FGC che ha fatto giocare il Genoa con 18-19 contagianti ma questo perché? perché non ci sono date disponibili se tagliamo questa benessima allora non possiamo pensare di non vedere mai la nazionale solo perché vogliamo vedere e curare i nostri giocatori mondiali se lo vuoi fare in Italia devi tagliare la Coppa Italia ognuno ha i propri interessi tu dici gli interessi minori potevano essere messi da parte però anche gli interessi minori sono comunque interessi per quelle aziende certo sì ma i calciatori li pagano i club a che vuol dire? non li paga l'UEFA o la FIFA è questo il concetto dei presidenti è quindi allora togliamo i mondiali togliamo i mondiali facciamo tanti regionali facciamo solo non so se la Champions non è un esercimento perché perde i trovatori 600 mila euro se tu intasi così il calendario o la Nations League poi il contraltare cos'è? che poi uno Juventus Napoli non lo puoi far giocare devi tenere il punto e condannare il Napoli per non essere partito nonostante non divino la parte la Coppa Italia e recuperi delle date è più facile lo stesso ragionamento può essere fatto o gliela dia alla RAI che c'è i diritti sulla Coppa Italia allora facciamo ragazzi però allora facciamo un discorso questo è un discorso che facciamo soltanto non in Italia perché in Inghilterra ma giocano in Inghilterra se tu fai tutte quante tre le le Coppa Italia Coppa di Lega e Sherry e Sherry e Shield e Feca e Feca fai 80 partite e chi arriva in finale più c'hai le nazionali e la Champions giocano no aspetta giocano sempre gli stessi e giocano e giocano e tra l'altro se vogliamo fare un esempio il Liverpool che aveva già perso Van Dijk ha perso tre difensori da questa tornata alle nazionali perché Gio Gomez è fatto una lega con l'Inghilterra cioè tutti hanno sti problemi non soltanto in Italia che sembriamo sempre quelli che piangiamo sempre più francamente non mi è sembrato un lamento un pianto inutile quello di De Laurentiis né quello di Marotta ma anzi un ragionamento molto corretto visto la situazione assoluta emergenza hanno rimandato le Olimpiadi hanno rimandato le Olimpiadi se vogliamo capire le ragioni che hanno spinto a fare per forza il campionato a tutti i costi di campionato a finire quello ricominciare un altro bisogna capire pure le altre cose è comunque tutta la situazione che non è proprio ragionibile perché è anomalo tutto ma anche la vita di tutti i giorni alcune attività chiuse altre aperte purtroppo è così però la National League deve rimanere lì perché è una coppa di un certo livello io capisco perché tu dici è una coppa non importante quindi bisognerebbe però ti troppo la coppa era un importante farei un sondaggio per D'Alessandro è più importante la Nations League o l'Europa League? ah decisamente l'Europa League che è tutto dire ma non è mai importante come il campionato perché anche quello tu avresti sacrificato dei giocatori su questo siamo d'accordo su questa cosa l'Europa League è veramente da puntare però scusate io non ho mai neanche sopportato perché tante volte abbiamo fatto questo discorso società, club che non mandavano i giocatori in nazionale ma scusate un attimo ma è il mio mestiere cioè è il massimo per un calciatore arrivare e vestire la maglia azzurra ma come puoi pensare a una cosa del genere? come puoi pensare ma chi se ne frega dalla Coppa Italia mando dentro 10 ragazzini o chi se ne frega dall'Europa League faccio giocare 11 riserve ma non si ragiona così nel calcio però lui diceva nel calcio nel tuo lavoro attenzione diceva le Olimpiadi quanti atleti si sono preparati per delle grandissime sfide insomma e poi non ci sono cioè stiamo parlando di sport e lascia perdere che girano centinaia di milioni di euro stiamo parlando di sport e chi fa sport questi ragionamenti questi discorsi non li deve fare e non li vuole neanche sentire però in uno sport dove girano tanti milioni dove i giocatori e dove i protagonisti sono milionari possono dire ma chi se ne frega dalla nazionale in degli sport tipo atletica leggera dove i milioni non girano tutto quanto lì c'è veramente uno spirito è sport però lì è sport è il tuo sport nel calcio è diverso è il tuo sport e lo so che è diverso ma non deve essere così non dovrebbe essere così cavolo però se viene a mancare la sportività viene a mancare la convocazione azzurra se viene a mancare che fanno sollevamento pesi quante volte dicono ma guarda sti giocatori noi ce ne andiamo 10 ore al giorno a tirare su 300 kg perdonami perdonami poi siamo anche tonti siamo siamo tonti lo sai perché tonti nel senso buono ci mancherebbe perché l'Europa Liga è che palle giochi al giovedì sera magari vai nei paesi dell'est e torni alle 4 perché una volta si tornava il giorno dopo adesso tornano tutti di notte con il proprio aereo che è un errore eccetera eccetera l'Europa Liga è una questione è una rottura di scatole poi però quando arrivano le semifinali tutti si mettono lì con 14 milioni 10 milioni di persone perché poi piace a tutti piace capito? e che cavole allora ci piace o non ci piace? la natura di scatole o no? i calciatori sono tutti delle ditte i calciatori sono tutti delle ditte individuali la Coppa Italia è la stessa del prima cosa certo è vero se già lì in semifinale è meglio dormire noi dall'inizio dell'anno che puntiamo la Coppa Italia ridicoli fanno solo ridi nel frattempo c'è una provocazione da casa ma neanche tanto perché Dario Scognamiglio scrive ma visto che i sai non c'è domenica sera non è che se Binonella vuole farsi una partita al San Paolo gioco solo a sinistra io adesso non gioco più non mi dispiacerebbe però allora abbiamo ancora tante cose da farvi vedere abbiamo una parola già non state andando d'accordo già durante le pubblicità non state andando d'accordo parliamo del nostro capitano Lorenzo Insigne scriveteci i vostri messaggi cosa ne pensate perché devo dire che si è distinto molto il nazionale e questa sarà la sfida tra lui e il suo compagno in nazionale no Donnarumma eh Donnarumma amici hanno fatto un video si sono scatenati a cantare discutevamo sono compagni di stanza in nazionale se non sbaglio guardiamo prima la clip realizzata da Gennaro Arpaia e poi la commentiamo insieme eh Gennaro Arpaia che la guardiamo a fare la vediamo? arriva? se non arriva tu non eri d'accordo? due partite due assist e una miriade di giocate da applausi a Lorenzo Insigne è mancato solo il gol non una cosa da poco certo ma un ostacolo superabile nella valutazione completa il napoletano in questa settimana di nazionale ha ritrovato anche la fascia di capitano la stessa vestita a Napoli ma stavolta utile a rappresentare tutto il paese la nazionale di Mancini mette da parte le problematiche relative al coronavirus e ai troppi infortuni sostituisce anche il CT senza sentirne troppo il peso e lo fa nel segno di Insigne che si prende la fascia la numero 10 e anche i riflettori tanto da far strabuzzare gli occhi anche agli scatti internazionali nella lunga strada che porta al prossimo europeo napoletani e italiani hanno finalmente trovato un punto in comune con la numero 10 e i capelli di Platino pronto a fare la differenza Allora, ti è piaciuta la clip di Arpaia? Mi stavano già richiamando mi stavano già Sì, subito Non poteva non piacere ma soprattutto Ma quanto ti è piaciuto Lorenzo Insigne? Non per merito di Arpaia però perché il protagonista della clip insomma è Insigne in questo momento veramente uno dei calciatori più importanti non solo del nazionale ma del campionato del campionato italiano Perché? Perché è diventato così importante? Perché ha raggiunto una maturità calcistica psicofisica Io ho anche un'altra spiegazione perché finalmente ha trovato un allenatore che lo fa allenare come si deve Io non ho mai visto tanta tranquillità tanta facilità tanta serenità in Insigne nell'attaccare e andare a difendere non l'ha mai fatto ha sempre difeso ma con sofferenza anche con sofferenza adesso invece lo vedo maturo in tutto e per tutto e mi auguro che questa maturità ovviamente la scarichi sul Napoli perché sarebbe importante per la squadra Infatti nella sua dichiarazione dopo la partita ha parlato anche di Gattuso e del lavoro che sta svolgendo con lui Sì e anche del fatto che è cosciente che a Napoli diciamo in passato almeno non è stato tanto amato io penso che il sentimento anti-Insigne sia stato nel corso degli anni venuto fuori alcune volte scomparso quando le cose andavano bene poi è chiaro che succede a volte così sia stato però slegato dalle prestazioni cioè sono alcuni forse ho provato nel corso di questi anni a capire un po' di più forse sono stati alcuni atteggiamenti interpretati male da parte di alcuni napoletani è una città strana la nostra Ciccio che tu conosci anche meglio di me in cui è difficile affermarsi e soprattutto avere il consenso cosa che in altre città non succede penso a Roma ad esempio mi riferisco a Totti ma ce ne sarebbero anche altri esempio ma non solo nell'ambito calcistico di personaggi che nella nostra città si sono affermati sono arrivati a dei livelli mettendo tutti quanti d'accordo sono pochissimi devi dare forse più degli altri per farti apprezzare però è vero anche che Insigne ha corretto un po' il carattere Insigne adesso non è più quello che esce dal campo e protesta con l'allenatore c'è dal campo e fa il polemizzo possiamo riassumere nella maturità di questo giocatore è maturato in questo sta giocando bene ed è accettato meglio io penso che sia un po' nella logica delle cose è chiaro che non si può parlare del livello tecnico stiamo parlando di un giocatore che con i piedi sa fare qualsiasi cosa lui da un po' di tempo ha capito che non si può giocare come si giocava 15 o 20 anni fa soprattutto con certi sistemi di gioco nel 4-3-3 è finita l'epoca che facevi l'esterno facevi una giocata e ti fermavi là no nel calcio moderno oggi si fanno tutte e due le fasi come giustamente come si fanno tutte e due le fasi primo un allenatore credibile i risultati la continuità e sì l'aspetto fisico se non sei abituato a lavorare tanto per i 90 minuti perché l'allenamento è l'allenamento e la partita è tutta un'altra cosa se non sei abituato a fare questo lavoro ti risulta difficile e lui fino a qualche anno fa era il classico giocatore no giocata magari palla persa comincia a alzare le mani comincia a metterti le mani qua è chiaro però guarda che era così io io lo sai che non sopportavo dell'appo da sempre un giocatore sempre molto disponibile un compagno sbagliava qualcosa costa e mani per aria ragazzi è una cosa nel calcio vedere i giocatori che alzano le braccia è la cosa più brutta in assoluto adesso ha consapevolezza di aver raggiunto la maturità sicuramente è cresciuta a livello fisico e adesso fa altre cose che qualche anno fa non faceva lui ha fatto tutte le fasi dell'esterno perché Zeman gli diceva guarda questa è la linea di centrocampo tu non devi mandare sotto sta linea poi è arrivato Mazzarri e ha detto guarda comincia ad andare un po' sotto la linea poi è arrivato Benitez e gli ha detto guarda tu devi andare dietro adesso però senza avere secondo me mai le qualità la preparazione atletica che occorreva per fare il suo lavoro adesso ce l'ha e lo fa con semplicità e per questo è diventato ancora più forte è diventato il giocatore più importante in questo momento in nazionale e abbiamo degli esempi in Europa abbiamo degli esempi anche spaventosi io spesso io spesso prendo Liverpool come esempio ma il Liverpool è pazzesco quello che fanno i due attaccanti esterni Salah e Manet sono due giocatori incredibili questo però bisogna fare nel calcio di oggi Massimo troppo a loro così l'abbiamo titolata questa grafica sette partite due gol nel Napoli nella nazionale due partite due assist ho preso Massimo abbiamo preso esempio abbiamo scimmiottato tra virgolette con molto onore e rispetto Verdone visto che era la settimana dedicata anche dal patron del Napoli a Verdone grandiosa da troppo forte a troppo azzurro vero è vero io penso di averle seguite come molti i nostri telespettatori tutte le partite di Lorenzo Insigne nel Napoli io in questo diciamo dissento se ho capito bene il ragionamento ottimo che ha fatto Sebbino sulla disponibilità dell'atleta al sacrificio che c'è sempre stata dalla prima partita ancora quando era proprio ragazzino vorrei vorrei sempre grandissima disponibilità in ogni momento ma padre Sebbino che è buono con tutti ha detto una cosa una cosa d'uso non ha detto che non c'era disponibilità c'era un atteggiamento diverso negli allenamenti anche perché c'erano allenatori che facevano allenare in una maniera diversa e a proposito di allenatori oggi Gattuso li sta mettendo sotto le fatiche volete parlare di Ancelotti e del suo rapporto di quello che secondo me l'errore principale da cui nasce tutto di Ancelotti nasce tutto in negativo quello che è accaduto è proprio il rapporto che non c'è mai stato o se c'è stato è stato impostato in una maniera sbagliata con questo calciatore col quale ha quasi pubblicamente litigato ben due volte riunioni a casa sua col procuratore col presidente cioè per non parlare del ritiro scorso quando lui in un'intervista lo disse proprio Lorenzo Insigne Ancelotti nella posizione insomma che non era d'accordo quindi si vinceva e poi abbiamo visto che non c'era un gran rapporto e forse lì ha avuto il momento di flessione più grande Lorenzo che è totalmente cambiato con Gattuso allora cioè verrebbe da dire che il merito principale di Gattuso in questa rinascita del Napoli perché il Napoli quest'anno è tanta roba lo è stato anche l'anno scorso in parte ha vinto una Coppa Italia per carità in un campionato sanissimo verrebbe da dire che il merito principale sia stato aver ritrovato Insigne ma secondo me se Gattuso potesse parlare in maniera aperta sincera diretta e come tra amici secondo me è quella è la cosa più semplice che lui ha fatto cioè tu trovi un giocatore con le motivazioni di Insigne Napoletano che capitano con la qualità di Insigne basta soltanto che ti metti un attimo d'accordo con lui la cosa è fatta stiamo discutendo di un giocatore che c'è grande qualità tutto quanto però non è possiamo scaricare sempre la responsabilità sugli altri ogni tanto qualcosa forse ha sbagliato pure lui certo o no a parte negli atteggiamenti ma anche nella crescita nel pensare che forse lui era già un giocatore importante o straordinario è invece forse doveva ancora crescere quindi al di là degli allenanti infatti quando tu dici anche i tifosi che si sono l'hanno fischiato più volte nel corso di questi anni però anche lì forse volevano qualcosa di più dal loro capitano questo è quello che voglio dire riuscivano a percepire a capire che in campo probabilmente non dava il massimo o comunque non c'era quella maturità che poi invece stavo vedendo in questo momento potrebbe essere così ma la differenza fondamentale fra l'insigne da un anno a questa parte è proprio perché io non trovo alcuna differenza secondo me la differenza è che in signa adesso non fa sempre la solita cosa cioè in signa adesso ha una varietà di giocate che prima non aveva forse giocava anche per la squadra brava prima secondo me era fino a se stesso per la sua giocata adesso invece si mette anche al servizio della squadra per me no per me è la percezione della maggior parte delle persone rispetto a insigne che è cambiata semplicemente un giocatore che è straordinario da qualche anno allora mi stai dicendo pure te allora scusa che vuoi dire adesso siccome gli stai sono vuoti in signa gioca meglio che non c'è pressione non penso ma che fai come l'altra volta ma per caso stai dicendo posso pensare no io sto dicendo che non è che gioca meglio per me in signa è standard sui suoi livelli quindi vuol dire che per te non è cresciuto ma se è semplicemente maturo è più grande è più consapevole anche con dei compagni di squadra è diventato scarso ha un rapporto diverso perché è un fatto anche anagrafico cioè adesso va verso i 30 per cui ci sono i ragazzi che già è l'unico ramare per questo che ci è arrivato un po' tardi con qualche anno di ritardo troppe volte è successo che è uscito poverino e mi dispiace perché lo so da giocatore fischiato dal proprio pubblico e allora lì però devi esaminare con serenità perché sei napoletano sei il capitano ma guarda noi non ce lo siamo ancora spiegato non lo so però mi viene anche da pensare perché Carlo Ancelotti non ha rapporti con Insigne Carlo Ancelotti riconosciuto in tutto il mondo come il più grande gestore di spogliatoi che ha avuto a che fare con i migliori giocatori del mondo e infatti a Napoli è stato insonerato cioè Ancelotti è arrivato in un periodo a Napoli grandissimo allenatore grande professoressa in un periodo evidentemente di down e una delle dimostrazioni è che non è riuscito a trovare un rapporto digno al di là delle poi delle dichiarazioni di facciata che a un certo punto hanno fatto alla pace eccetera eccetera col miglior giocatore italiano in attività però loro dicono probabilmente c'è anche responsabilità da parte del giocatore questa stavamo dicendo tutti e due c'è la forza responsabilità non solo Ancelotti che non è riuscito ad avere un rapporto sull'autostrada è sempre colpa di chi ti viene davanti ogni tanto pensa forse forse sono anch'io che avrei dovuto migliorare avrei dovuto fare delle cose diverse avrei dovuto avere un atteggiamento differente sia verso l'allenatore verso i compagni verso i ripositori d'altronde non sei mai profilo in patria quando sei di Napoli e giochi nella scuola della tua città hai delle delle responsabilità differenti tu vivi la realtà di Roma il trattamento che ha avuto Francesco Totti ad esempio adesso non sto paragonando Insigne a Totti non mi fraintendete perché non è questo quello che voglio fare però paragonare l'atteggiamento della città e anche della società la protezione di cui ha goduto Totti che anche lui in carriera ha avuto degli alti e bassi non è sempre stato da otto in pagella in tutte le sue performance con Satotti Insigne non ha goduto di tutto ciò ma scusate faccio una domanda ma perché perché la gente perché a Napoli l'hanno fischiato cioè mica sarà stata colpa di Ancelotti ma tu mi devi spiegare paga paga degli atteggiamenti che non c'entrano niente col calcio a Napoli io non lo so che atteggiamenti ha avuto il calcio lo sappiamo è considerato come dire uno non di Napoli di fuori Napoli ma io guarda non penso che la gente ma secondo me non è questo o da fischiarlo per questo ma secondo i napoletani il pubblico napoletano è comunque un pubblico campano diciamo non ci sono solo i napoletani eppure io non la pare un'altra cosa del genere secondo me più di prestazioni cioè come se i tifosi vedessero in Lorenzo Insigne il capitano del Napoli un giocatore che poteva dare di più e non lo dava in campo e quindi veniva fischiato che non riusciva a darlo allora il discorso è perché non riusciva a darlo e io in questo io sono convinto da un po' di tempo che era un problema di condizione atletica cioè lui non riusciva a fare fisicamente quello che poteva il massimo che poteva fare e guarda quanti calciatori in Napoli finivano l'allenamento e avevano il personal trainer e andavano ad allenarsi altrove lo sai bene per essere pronti poi probabilmente Insigne si è commesso un errore è stato quello di non capire che doveva atleticamente migliorarsi finire l'allenamento e andarsi allena per fatti suoi io vi dico guardate perché in questo caso è detto che Ancelotti quindi non riusciva a fare degli allenamenti idoni per tirare fuori per mettere fuori le qualità di Insigne con molti allenatori continuo a essere negazionista per usare un termine diciamo molto in voga rispetto a una trasformazione di Insigne perché io ricordo le annate pazzesche convenite con Sarri i migliori Insigne secondo me l'abbiamo visto con Sarri Massimo posso aggiungere un po' di Pepe perché Mario da casa vi fa questa domanda non è che il problema con la piazza sia stato un po' di mancanza questo ce lo metto io di ruffianeria che invece per esempio altri come Mertens hanno avuto e anche di altri campioni in altre città ragazzi un problema di Insigne se la mettiamo su questo piano con la piazza che siamo prestati indipendentemente è troppo scherzo è troppo sincero secondo me scadiamo un po' se parliamo di queste cose però ti dico che Mertens è stato ruffiano a suon di gol Mertens è stato ruffiano ha fatto 100 io conosco delle persone veramente ruffiane che delle squadre sono state 7, 8, 10 anni e non hanno fatto niente però erano amati assolutamente almeno Mertens ha fatto 100 e passa con io ti dico però c'è una fetta scusa se io ti interrompo c'è una fetta diciamo di appassionati di appassionati che seguono il Napoli e dovrebbero chiedere scusa a questo giocatore veramente a Napoli perché non è stato trattato bene è successo qualcosa di simile qualche anno fa a Paolo Cannavaro che da napoletano soffrì moltissimo ricordo una partita in particolare al San Paolo fischiato lui ebbe anche un gesto di stizza e a pochi altri cioè quello che è successo a Insigne in questi anni il giocatore ha sempre dato di tutto per la maglia il primo arrivo all'allenamento l'ultimo andare via mai sentita mezza voce manco quando era solo fidanzato con l'attuale moglie eccetera anche sotto questo punto di vista irreprensibile sempre e non da tutti è stato trattato ma io non escludo assolutamente che ci sia anche questa componente però non la vedo preeminente cioè la più importante e invece la componente del cambio procuratore potrebbe avere inciso in qualche modo no conoscendo il procuratore di prima non Raio mi riferisco al primo assolutamente no è stato uno che è molto vicino molto vicino a Insigne e che ha fatto crescere però io parlavo nel momento Raio cioè forse c'era un po' di ansia da prestazione nel periodo di Raio però vedi quante cose già abbiamo trovato sono già 5-6 cose che abbiamo trovato Raio lei è venuto per portarlo altrove è appunto scusate perché arrivò Raio per portarlo altrove perché il rapporto con la piazza era logoro e perché era logoro nonostante la grande qualità di questo calciatore e ritorniamo al discorso che facevo prima allora facciamo così poi ci fu qualche assistito di Raio che gli disse vieni non ti preoccupare perché Raio ti sistema da un'altra parte facendoti guadagnare un sacco di soldi col trasferimento e questo secondo me incise molto sulla decisione facciamo così dai ragazzi come nelle separazioni il 50% di colpe mettiamo adesso così ho detto padre Stebbino è proprio un democristiano perché così a me democristiano no ma lasciamo perdere la politica padre sì questo non è 0 a 0 allora vado contro di lui perché lui ha esordito da quando la prima volta che veste la maglia del Napoli sempre stato migliore in campo no Massimo non è così le prestazioni contano le prestazioni contano tu hai fatto l'esempio di Totti Totti è stato criticato a Roma come no per molti anni attenzione per molti anni e lo sai benissimo ma le prestazioni la continuità delle partite l'essere protagonista partita dopo partita campionato e coppe ha fatto sì è chiaro la bravura la conosciamo ci mancherebbe altro quando arrivò Spalletti non era arrivato per mandare via Totti se tu parli se tu parli con Totti perché parlavamo poi prima di allenatori il primo allenatore al mondo Mazzone come Mazzone che cavolo perché Mazzone perché poi i giocatori sono così come per adesso insegna magari Gattuso e magari Ancelotti è l'allenatore che tutti vorrebbero ha trovato l'uomo l'allenatore giusto non lo so ma ci sono secondo me e chiudo alla base le prestazioni le prestazioni non c'è niente da fare se vuoi diventare idolo di una piazza incontrastabile le prestazioni sono la cosa che contano che conta assolutamente di più se ci metti poi qualche atteggiamento sbagliato purtroppo uscire dal campo e mandare a quel paese uno mandare a quel paese quell'altro cosa che per esempio Mertens non ha mai fatto e perché? perché te l'ha detto lui è sempre stato un giocatore che comunque ha in qualche modo assorbito qualsiasi colpo e ha solo lavorato e poi ha dimostrato in campo come forma caratteristica ne ha avuti pochi di colpi Mertens però attenzione il fatto che uno straniero si innamora di una piazza è stato anche coperto dalla città è stato coperto da tutti però diceva Sebino una cosa giusta uno straniero si innamora di Napoli e i napoletali si innamorano di lui esatto è così diciamo di alcuni privilegi io insomma di partite in cui Mertens al netto della grandissima qualità che tutti gli riconosciamo sarebbe impossibile il contrario che però in campo se le guardate io ne ho viste e anche qualcuna recentemente però nessuno aveva il merito di non essere napoletano esatto secondo me conta molto la stampa in queste cose quando succedono queste cose qua bisognerebbe spogliarsi perché il giornalista per me è un giornalista quando vuoi fare prima il tifoso e dopo il tuo mestiere quello di giornalista probabilmente ti inciampi no se fai prima il tifoso te lo dico per esperienza se fai prima il tifoso e poi il giornalista io ti dico la verità che fai in questo mestiere deve essere terzo e non deve essere tifoso devi avere la freddezza per poter giudicare infatti ti sto dicendo questo sono stato sempre contento quando il Napoli ha vinto i giornalisti sportivi dovrebbero spogliarsi fare i giornalisti poi se sei tifoso di quella squadra è un altro punto allora io senti dico che e su questo aggiungo scusa poi ti faccio finire io non so come è stato mai trattato in segna perché non è che tutti i giorni leggo il giornale di Napoli qua in città i giornalisti come l'hanno trattato in questi anni? in qualche modo la stampa è inciso la domanda la faccio a voi ti assicuro che in questo studio ci sono tre giornalisti che fanno esattamente quello che tu stai dicendo certamente no no ma giusto per volevo chiedere appunto questa città come è stato trattato come si è comportato sta chiedendo in questi anni con Lorenzo Insigne ha sempre cercato in qualche modo di essere oggettivo sulle prestazioni è stato valutato soprattutto per le prestazioni e poi un calciatore è importante ed è maturo quando accetta anche la critica uno dei danni che si fa negli ultimi tempi nel calcio sai qual è? i giocatori non parlano più però parlano i fratelli il padre la madre la moglie la zia il nome siamo arrivati a questo che è la stessa cosa insomma quindi loro hanno libertà di attaccare poi c'è un fatto alla base di tutto questo c'è il rapporto tra il giornalista tra i media e la squadra e i giocatori noi dico fino a qualche anno fa andavamo a vedere tutti gli allenamenti tutti i giorni è vero sapevamo le condizioni le condizioni le condizioni della squadra non solo ma noi parlavamo con tutti i calciatori c'era un rapporto personale c'era un rapporto personale uscivano dallo spogliatoio e si chiamavano giocatori scusa Diego ti fermi Carica havi pazienza fermi un momento Alemao Giordano Nella si fermava Nella si fermava come no ma non gliele dici in faccia ha scritto bene o male mi chiamava alle 11 di sera a casa certo è vero anche a questo scriverà bene o male no devo dire con me si è sempre comportato bene e ci credo di rispondere a te e poi invece oggi i calciatori non c'è più quel rapporto che pure quell'empatia che la simpatia che c'è non c'è più ma si viaggiava assieme sugli aerei c'era un altro rapporto che ti permetteva poi di comunicare anche in maniera differente quello che erano le prestazioni delle situazioni che si creavano conoscere l'uomo oltre che il calciatore quindi cogliere anche le sue difficoltà del momento questa è una cosa brutta del calcio moderno è una cosa molto brutta del calcio moderno perché c'è troppo distacco c'è distanziamento dappertutto Genaro c'è Luigi Catalano che è una memoria storica e io vado subito da Ciccio perché dice Ciccio noi abbiamo fischiato anche Maradona in un Napoli-Fiorentina quindi non ci sorprendiamo se a volte abbiamo avuto dei passaggi a vuoto anche con Insigne è vero tu ricordi? Napoli-Fiorentina io Maradona non l'ho mai fischiato dico la verità però è probabilissimo ci sono stati dei momenti in cui Maradona è stato fischiato se è stato fischiato vuol dire che la partita non è stata mi vai a cercare il pezzo le pagelle di quanto gli ha messo tra l'altro per chiudere poi il discorso Massimo tu hai detto molti tifosi però dovrebbero chiedere scusa a Lorenzo Insigne per i fischi però secondo me l'hanno fatto crescere io credo che nessuno debba chiedere scusa a nessuno io non sono d'accordo non sono d'accordo se oggi Lorenzo Insigne è questo grande giocatore che noi abbiamo visto in nazionale lo vediamo nel Napoli è perché lo deve essere di cosa una crescita che viene anche attraverso le critiche che viene probabilmente anche attraverso i fischi sarà una cosa bruttissima secondo me essere fischiato da tutta diciamo dal San Paolo però forse questo anche è servito a lui a crescere ma anche il rapporto con Ancelotti ma anche quel cattivo forse il rapporto con Ancelotti è servito alla crescita di insieme ma soprattutto in momenti di difficoltà anche i fischi debbono essere poi lo stimolo che fa meglio non può essere quello che ti abbarca Claudia l'ho molto lodata stasera su questa ultima sua considerazione non sono d'accordo anzi secondo me il fenomeno il Signi a Napoli negli ultimi anni del trattamento ricevuto da una parte appassionata per carità perché poi anche questo ci mancherebbe altro ma non sei d'accordo perché dipende dal carattere di una persona Massimo perché guarda voglio dire se a Claudia Mercurio adesso arrivano qui doveva essere coccolato delle persone aspetta però Massimo no dipende dal carattere secondo me che una persona dipende dal carattere che una persona ha perché se entra qualcuno adesso e fischia Claudia Mercurio io faccio così e non me ne passa insomma se probabilmente un carattere un po' più sensibile che magari allora però non possiamo pensare che un giocatore di serie A che comunque sta lì che gioca che ha un background insomma sta lì a mettersi sulla reazione da parte del giocatore poi magari potremmo parlare dell'uomo più del giocatore però secondo me è stata di livello perché in questi anni non abbassi l'autostima secondo me di un giocatore del genere perché pensi di sì dove è stata questa grande contestazione che la città di Napoli ha fatto contro Insigne ma insomma io non mi ricordo che siano state proprio delle crociate contro Insigne no crociate no un paio di occasioni su quanti anni so che Insigne è giocatore 10 anni ancora adesso non viene percepito come un fuoriclasse assoluto da parte di tutti questo per chiudere il discorso Bruno da casa ci fa notare che Insigne è intoccabile in campo ma evidentemente avrà visto il video quello con Donnarumma che cantava a digitale e si è detto è meglio non farlo riproporre più nelle parti di attore e cantante e quella che abbiamo messo invece grazie alla regia è la mappa dei contagi perché ovviamente si ritorna in campionato e si ritornerà anche con il discorso Covid abbiamo detto che il Napoli in questo momento ha un positivo che è il 6 di 6 visto che gli altri due sono guariti e poi c'è da tenere sotto controllo secondo me sia il Parma che ha ancora 7 contagiati non ha comunicato quelli che sono i nominativi ma anche il caso Immobile no Ciccio e Nando no Immobile è stato negativo ha fatto le visite mediche quindi possiamo depennarlo oggi si è allenato puoi depennarlo puoi depennarlo dove l'ha fatto il tampone anche perché non è stata infinita sì perché prima era positivo la mattina la sera usciva negativo poi era positivo ha un discorso anche cioè non è soltanto un discorso di Immobile secondo me è un discorso dei tamponi sì cioè come è possibile fare un tampone oggi negativo ne fai un altro dall'altra parte positivo cioè quindi c'è un errore di fondo scusami non lo so che tipo di errore l'errore di fondo sai qual è? è che i tamponi dovrebbero essere fatti dallo stesso istituto sempre per tutte le squadre assolutamente sì come si fa dovrebbe avere una struttura unica uno si fa nella voia uno a nord uno a sud sta mettendo appunto il nuovo protocollo con una struttura un laboratorio unico assolutamente sì speriamo arrivati presto il vaccino chissà poi cosa succederà anche all'interno delle squadre con il vaccino poi capiremo intanto io volevo salutare tutti i nostri sponsor partendo da Sagifin, Neafit, Zannone Capella Tessa Alta Energas e Celle Spedizioni Internazionali che bello quando parlo di sponsor arriva questa musica soave che accompagna il nostro motore naturalmente dei programmi e volevo dire che è un momento particolare per tutti tra cui anche alcuni nostri sponsor che in questo momento sono chiusi per la zona rossa della campagna ma che apriranno presto e quindi da me da parte mia da parte naturalmente dei nostri programmi va tutto l'imbocca al lupo noi siamo sempre forti ci siamo continueremo ad esserci sempre più forti di prima naturalmente parlo a nome di tutti i nostri sponsor che ci accompagnano in questa grande famiglia che giochiamo d'anticipo e anche il bello del calcio era una piccola parentesi doverosa perché tutti stanno ecco stringendo i denti è cascato tutto devo dire che un portiere attento avrebbe subito bloccato gli anni passano per tutti scusate noi siamo scaramantici c'è ragione siamo scaramantici ma la scaletta vi insegno una cosa per chi non la sapesse va battuta tre volte quando cade a terra lo facciamo in diretta uno due e tre questa è una scaramanzia nostra televisiva anche voi avete le scaramanzie nel calcio imparerò però questa cosa la tua qual era? no siccome voglio diventare anch'io conduttore allora vieni qua perché come abbiamo iniziato così dobbiamo terminare la nostra puntata dobbiamo salutare dai e salutami da seduta dai no no vieni accanto a me a debita distanza perché non ci possiamo avvicinare siamo arrivati al termine questa meravigliosa puntata iniziata con Sebino Nela che presentava tutto il nostro parterre quindi adesso ci sono i saluti finali ci sono i saluti finali non dimentichiamo che la settimana prossima andremo in onda di venerdì perché giovedì naturalmente c'è l'Europa Ligga l'Europa Ligga non perdete Nando Orsi in telecronaca ci sarai tu no? ci sarai tu in telecronaca? esatto confermatissimo confermatissimo bene allora saranno contenti anche i nostri tipositi del Napoli speriamo buon lavoro per giovedì grazie per la tua partecipazione anche stasera un saluto a Nando Orsi ci riciccio dai quando ci rivediamo però facciamo un po' di polemica facciamo perché sennò lo so insomma tu sei troppo sei un buonista questa è la verità io non sono buonista sì sei un buonista sei grosso fisicamente ho fatto calcio il calcio lo vedete una certa allora venerdì prossimo Sebino Nera si preparerà una serie di provocazioni dopo che ha studiato tutti i componenti di giochiamo ad anticipo e vi farò vedere che succederà se già la seconda puntata è qui accanto a me che vuole condurre attenzione esatto attenzione a te ma è un piacere e un onore avere qui Sebino siccome è un filo scaramantico sarei anch'io stiamo chiudendo Massimo stiamo chiudendo veloce io ci dirrei i pronostici perché dai dai pronostici è vero allora io dico 1 a 0 ok 1 a 0 per il Napoli contro il Milan lo volete fare anche voi al volo? dove? lui è 1 a 1 1 a 1 1 a 1 quindi torneranno anche i nostri live delle partite ma c'è anche il pre c'è anche il posto con tutte le parole dei protagonisti quindi scaricate l'app seguiteci lì insomma avrete modo anche di rileggere tutto quello che ci siamo detti stasera perché ci sono già le parole di tutti i nostri protagonisti ecco saluto e ringrazio Gennaro Arpaia continuateci a seguire sull'app anche rivedere dei diversi momenti giochiamo ad anticipo perché siamo in diretta anche sull'app del velo del calcio Fabiana grazie grazie a te Claudia saluti finanziamenti Neafit CL li abbiamo già nominati quasi tutti Giuseppe Zannone capelli a testa alta potete chiamare perché anche Neafit sono sempre reperibili naturalmente con al numero di riferimento basta cercarli anche sui social e potranno rispondere alle vostre esigenze e allora ringrazio e saluto l'abbiamo già salutato tutti quanti Ciccio, Nando, Massimo ma soprattutto grazie a Sebino Nela grazie a te Claudia Mercurio ci vediamo venerdì prossimo con giochiamo ad anticipo e lunedì con una grandissima puntata vi faremo scoprire tutti gli ospiti di quella puntata sui nostri canali social grazie e buon proseguimento di serata ciao